La linea ferroviaria Bologna-Rimini Tra Faenza e Ravenna si partirà con alcune limitazioni dovute al perdurare dei lavori di ripristino all'infrastruttura. L'obiettivo è quello di far tornare il programma dei treni progressivamente al 100% a partire dal lunedì 5 di giugno. Proseguono anche i lavori nel bacino di Lugo e tra Porto Maggiore e Ravenna, dove è attualmente attivo un servizio sostitutivo con autobus. La previsione di riattivazione sarà definita nei prossimi giorni. Sin dalle prime ore dell'emergenza, i tecnici della società del gruppo FS si sono attivati per ripristinare le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. In una prima fase, il loro lavoro si è rivolto a quelle linee ferroviarie o stazioni immediatamente accessibili e quindi più semplici da raggiungere in sicurezza. Successivamente, i lavori manutentivi hanno riguardato anche le altre infrastrutture. Uno sforzo organizzativo rilevante, possibile anche grazie alla collaborazione con tutte le autorità competenti, come ha testimoniato sabato il summit in prefettura Bologna, dove hanno partecipato i vertici del gruppo FS, i ministri Salvini e Piantedosi e il governatore dell'Emilia Romagna, Bonaccini. I risultati, infatti, non sono mancati. La linea alta velocità Bologna-Firenze è stata ripristinata già nel fine settimana senza riduzione di offerte e velocità. Stessa cosa si può dire per la Bologna-Prato e per alcuni tratti della Bologna-Rimini e della Rimini-Ravenna-Ferrara, già riattivati a inizio settimana.